ciao a tutti ragazzi sono luca 29 e benvenuti in questo nuovo video della serie su far cry classic allora l'ultima volta diciamo c'eravamo lasciati che eravamo fuggiti dalla porta aerei e ora non so dove dobbiamo andare però da quel che ho capito dobbiamo tipo distruggere quell'antenna ok ricarica attenzione allora dobbiamo stare attenti no maledizione siamo veramente sordi siamo niente o quelli li scappano come in un modo incredibile ok siamo mezzi morti allora ditemi che c'è un posto dove prendere munizioni ok perfetto però mi serve ho vita sarei felice anche di avere magari un po di di armatura però non mi sembra ci sia allora vediamo un po credo dobbiamo arrivare lì credo però io preferirei andarci a piedi perché no così è la torcia come ok ecco allora è pieno dei nemici quindi dobbiamo stare veramente attenti allora ah ok sono anche segnati su radar non me la ricordavo questa cosa allora con calmissima andiamo con grande calma andiamo lì eh non sarà facile questo livello ok salvataggio lì ce n'è un altro l'ho appena visto vedrai il vecchio forte sulla collina raggiungilo oh quello lì ci ha visto che cos'è sì buonasera no dai ma ci stanno quei maledetti quella cosa eh un attimo però scusate eh non riesco a capire ci stanno quelli che eh mi sa che pure a me allora conviene prenderla eh secondo me conviene proviamo un po' perché tanto quello ci vede poi ci arrivano eh quelli dall'altro lato e siamo secchi quindi raggiungi le rovine del forte in cima al monte eh problema ricacce perché sarà pieno di mercenari sicuro oggi il mare non so perché ma lo vedo molto bambagato ah ecco sarebbe bello usare eh qua però secondo me ci siamo un po' spregati la nostra chance eh sì vabbè problema è che sale e scende quindi molte molte non è sembra facile ma non lo è per niente allora quello se è l'intana d'un lato quello che non lo prenderemo mai guardate se lo riesce eh no quello lì non lo prendo ok allora secondo me conviene andarci ma qui è uno oh mio dio ti farò rispianto per mi essere dato poi c'era uno e l'avevo visto benissimo proprio proprio io vorrei questa specie di mitragliatrice bellissimo ok dovrebbero essere finiti si maledetti oh sci loro non finiano più però io voglio quell'altra come faccio ad avere questa scusate un attimo vado a rispondere al telefono e arrivo subito ok ragazzi rieccomi no io vorrei capire come faccio a scambiare scambiare con questa arma scusate no vorrei solo capire perché sinceramente mi interessa comandi voglio vedere come si cambia l'arma allora cambia arma ah no quello però è per vorrei prendere l'arma un'altra volta scusate ok rieccomi non ho non sono riuscito a capire come si cambia arma eeeh boh semmai vedrò un tutorial dopo non ne ho idea oh e mo si che si ragiona questo cos'è ah hai raccolto fucile eh ho raccolto ma come lo faccio a prendere o forse devo scambiare i po' le posizioni cioè secondo me qui funziona come se io avessi un'arma tipo questa e una pistola oh ma allora ditelo e questo è come far cry 3 cioè ma ditelo subito allora va bene allora ok capito tutto ah qua c'è la mitragliatrice che però non ci serve più io qua andrei eh salvataggio non promette nulla di buono perché di solito quando ti fa salvare è molto più probabile che incontri resi allora eh infatti mi sa che mi conviene allora stiamo attenti che qua la vedo dura secondo me qui è pieno di nemici non vorrei oh eccoli lì già due allora come mi hanno fatta a vedere avanti a sinistra cioè vorrei una motivazione avanti a sinistra si vabbè che si mai pensano a rimbambi che emo ok oh che cos'era ok tranquilli eh da dove vengono io sento rumore di qualcuno eh ma cagà aspettate si però prima lo farò io guardate se mi faccio uccidere che me stavi a dir prima no 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 sta no là c'è un altro ah mi ha dato un po' di armatura per la prima volta facciamo con calma qui ce n'è uno allora lì è inudile salire qua c'è qualcosa no ah vedete è per oh shidua ok mi sta vibrando incredibilmente il controller non so perché allora qui non c'è niente ma io vado sempre con estrema calma salvataggio oh 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 che fai ah ok ecco qua c'è una specie di grotta non so cosa sia cos'è una bomba perfetto ok ok con calma no dai non ci credo che abbiamo fatto ah mi sa che abbiamo si ah shidua l'ho tipo visto all'ultimo ok salvataggio bene ragazzi io direi che per questo episodio è tutto noi ci vediamo oh oh noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti